Da oggi la provincia di Pesaro Urbino è zona gialla assieme alla provincia di Savona. Significa che per disposizione ministeriale la provincia rientra nei territori dove si applicano le misure più forti in maniera di contenimento della diffusione del virus. Pertanto, fino all'8 di marzo compreso, sospensione dei servizi educativi per infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza alle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le università, ferma in ogni caso la disponibilità di svolgimento di attività formative a distanza, sospensione anche degli eventi e delle competizioni sportive in ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento, all'interno però di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. E' fatto divieto anche di trasferta dei tifosi residenti nella provincia per partecipare ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province. Sospensione anche di tutte le manifestazioni di carattere culturale e ludico, comprese quelle cinematografiche e teatrali. A tal proposito, l'AMAT ha annunciato la sospensione delle attività di spettacolo nella provincia di Peso Rubino, fino a domenica 8 marzo inclusa, per cui sono rinviati, al momento e a data da definire, gli appuntamenti teatrali gestiti dall'associazione. Gli uffici dell'AMAT stanno lavorando per il recupero degli spettacoli, le nuove date saranno comunicate appena possibile. Per quanto riguarda i luoghi di culto, i Vescovi della Metropolia comunicano che sono sospese le celebrazioni delle messe festive e feriali, fino all'8 marzo compreso. I luoghi di culto comunque rimangono aperti, a condizioni da adottare misure adeguate per evitare assembramenti. Per i funerali si suggerisce di limitarsi al rito delle esequie nella forma breve, con parenti stretti e possibilmente che si celebrino al cimitero. Le benedizioni pasquali saranno fatte tenendo conto delle misure di sicurezza previste dall'ordinanza. Anche le attività pastorali sono sospese fino alla durata dell'ordinanza. È opportuno mettere fuori dalle chiese, consigliano i Vescovi, un avviso relativo ai punti sopracitati. Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che questi assicurino la modalità di fruizione contingentata. Quindi si entrerà a scaglioni. I matrimoni civili, se eventualmente in programma in questo periodo, verranno celebrati. A Fano fanno sapere dal Comune che l'accesso sarà consentito però ad un numero tale di partecipanti, in modo da rispettare per ciascuno di loro la distanza di sicurezza. Ristoranti, bar e pub aperti, a condizione però che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere, e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori debbono essere messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Anche le attività commerciali diverse dalla ristorazione avranno delle disposizioni da seguire. Possono aprire soltanto con un accesso contingentato, o comunque da evitare anche qui assembramenti di persone tenuto anche delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali. Anche in questo caso da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la fatidica distanza di un metro tra i visitatori.